Se dovessi scegliere un paese dove vivere oltre l'Italia, credo che sceglierei il Messico. Ma in questo nuovo viaggio ho scoperto che una delle cose che mi piace di più sono i Caraibi, e sì, la laguna di Bacalar. Praticamente sembra un mare caraibico, acqua trasparente, completamente verde acqua, sole stupendo, temperatura percepita a 30 gradi. Ha un bellissimo forte dal quale si può godere di una vista mozzafiato. Bacalar è uno dei posti più indicati per chi ama fare sport acquatici, specialmente vela, anche in catamarano oppure in imbarcazioni più piccole, e kayak. Molto spesso la corrente aumenta, specialmente in pomeriggio, quindi vi consiglio di fare come ho fatto io, sia trovarmi un fido compagno per col quale pagaiare. Ok, nel video non lo dico, ma la cosa più bella è fare il bagno di notte. Shhh!